Una mostra a laboratorio ad alto tasso di interattività per sensibilizzare il pubblico sull'effetto dell'inquinamento marino prodotto dalla plastica. Si tratta di Ocean Plastics Lab, presentata nei giorni scorsi a Palazzo Lascaris e promossa dal Ministero federale dell'educazione e della ricerca della Germania in collaborazione con il Consorzio tedesco per la ricerca marina e con il supporto della Commissione europea. Torino sarà la prima città dove l'esposizione verrà allestita in quattro container predisposti in piazza Solferino fino al 7 ottobre. Fra le prossime tappe del progetto itinerante, Parigi, Bruxelles, Washington e Berlino. La mostra ha come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza della gente in merito all'inquinamento prodotto dalla plastica negli oceani, ma intende anche offrire una panoramica di quello che può fare la scienza ciò che studio in termini di effetti dell'inquinamento sull'ambiente e le risposte che sono in grado di fornire non solo la comunità scientifica, ma anche l'economia, la politica e i privati, per arrivare a una soluzione del problema.